Non aveva un posto comodo dove dormire, non aveva vestiti, non poteva mangiare quando aveva fame, è arrivato persino a mangiare cibo per cani Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime Allora, questo sarà un video un po' particolare perché non tratteremo proprio di un crimine in sé per sé Ma si tratta comunque di una storia estremamente particolare Vi faccio una premessa prima di iniziare con questa storia Dovete sapere che quello che mi ha portato a scegliere di parlare di questo programma televisivo assolutamente spreggevole Ma comunque per quegli anni diciamo che c'era una sensibilità diversa, diciamo così È stata in realtà una storia di una mia collega, Elisa True Crime, che mi ha taggato in questa storia del canale Solo Horror E mi ha anche mandato questo vocale Oh mio Dio, che cosa allucinante! Se fai il video lo voglio vedere, voglio sapere, voglio saperne di più Sono notizie stranissime, sì, questa qua del tizio nella stanza ripreso, sì, effettivamente è scritta un po' clickbait Perché effettivamente sì, è vera, però è stato un po' romanzato il titolo Cioè perché ti lascia intendere che dietro ci sia qualcosa di molto più, la gente commenta, si schifa, eccetera Crea engagement, comunque vabbè No, assurdo, comunque vabbè, ci sono cose troppo strane Comunque dimmi se fai il video su quella storia lì perché voglio guardarlo Che roba assurda! La cosa devo dire che mi ha un po' stupito perché in realtà questo si tratta di Wadai Tsukuri Quindi è più che altro per fare una news Perché benché è vero che esiste questo hotel in cui con 100 yen puoi prenotare Se consenti a farti riprendere Diciamo che è più che altro un discorso legato a YouTube Nel senso che lui si è creato il proprio canale, eccetera, eccetera Quindi diciamo che sì, è vero, però da come ne parlano, diciamo, in questi giornali un po' sensazionalistici Sembrava più che si trattava di un qualcosa, diciamo, che succede con frequenza in Giappone Mentre diciamo che era più forse una trovata pubblicitaria per questo hotel E tra l'altro hanno anche finto di aver aggiunto alcune regole che in realtà, diciamo, che trovano il tempo che trovano Perché, insomma, per esempio che ha dovuto mettere apposta dei cartelli in cui chiedeva che le persone che prenotavano in quell'hotel Non facessero cose sozze o mostrassero carte di credito durante il live stream Vabbè, in ogni caso questo penso che vale in qualsiasi piattaforma live Quindi non c'è assolutamente nulla di cui stupirci Oggi parleremo del caso di Nasubi Nasubi significa melanzana, l'uomo melanzana Che dovete sapere che questo uomo che è stato costretto Anche se, vabbè, costretto è un po' una parola grossa Perché, insomma, costretto fino a un certo punto A rimanere chiuso in una casa senza cibo e senza possibilità di mangiare Completamente senza vestiti E ripreso 24 ore su 24 dalla Nippon Television Vi racconterò adesso in questo video un po' nel dettaglio Quello che questo uomo ha passato E come, secondo me, la televisione ha un pochino calcato la mano su questo caso E purtroppo non gli ha dato la celebrità e la fama che questo uomo cercava Allora, innanzitutto vi dico che la televisione che ha trasmesso questo programma Si trattava della Nittere, Nihon Television Che in quegli anni mandava assolutamente in onda dei programmi Un filino al limite Soprattutto, appunto, fine anni 90 e inizio anni 2000 Questo, diciamo che, in realtà, non è che era solamente la Nihon Telebi Che faceva questa tipologia di programmi Però, diciamo che c'era un programma in particolare Che ha attirato particolarmente l'attenzione anche dei media stranieri Perché lo ritenevano un programma veramente al limite della decenza E soprattutto sembrava porre le varie persone che prendevano parte a questo programma In modo, diciamo, piuttosto disumano Queste non sono parole mie, ma sono parole dell'ABC all'epoca Il programma era intitolato Susunu Denpa Shonen L'intero live stream, come vi dicevo, si trattava solamente di una singola stanza Nella quale c'era questo tavolino con una serie di lettere E poi uno scompartimento dove c'erano una serie di giornali e settimanali E in più c'era un bollitore e dell'acqua calda E ragazzi, quello che questo uomo è andato incontro È veramente una delle cose più, secondo me Non saprei definirla Giudicate voi, vi faccio vedere delle immagini Cercherò di censurare il censurabile Ma dovete sapere che Se voi pensate che, non lo so, magari il grande fratello sia difficile Immaginatevi essere in questa stanza da solo Ripreso tutto il tempo, completamente nudo E senza avere nemmeno del cibo Deve essere veramente difficile Questo uomo, altri non era che un comico di nome Nasubi Che cercava in tutti i modi di diventare famoso Nel gennaio del 1998 Nasubi, che come tradotto significa melanzana Aveva partecipato in questo programma Che tra l'altro potete trovare su Youtube In cui le era stato promesso un premio Che gli avrebbe cambiato completamente la vita Un'opportunità di una lifetime, diciamo A questa competizione hanno partecipato Circa una ventina di persone Molti altri erano dei comici come lui E all'inizio proprio il producer di quel programma Ha detto loro che l'unica cosa di cui avevano bisogno Per poter partecipare in questo programma Era la fortuna Quindi hanno messo questa scatola In cui le varie persone estraevano un numero E poi nella puntata successiva del programma Sarebbe stato detto chi aveva vinto Il vincitore è stato appunto questo Nasubi Dopo la sua vittoria Beh, innanzitutto hanno fatto dei commenti Diciamo che per la TV di oggi non si potevano fare Perché appena l'hanno inquadrato ha detto Ma chi è questo? C'ha la faccia così lunga? Sembra una melanzana Oppure guardate qua che vena stramba che ha sulla fronte Cioè veramente dei commenti non molto carini Quindi già ci fanno capire un po' L'andazzo che questo programma avrebbe preso Perché ragazzi questo Nasubi Non so se ha consentito o meno Perché diciamo che è un po' una grey zone Perché non si capisce quanto lui voleva esporsi E quanto invece è stata la televisione Che fregandosi di chi fosse questa persona Perché è una persona che comunque non si tratta così Non si tratta così neanche un animale Però veramente io devo dire che quando ho visto questo programma Mi sentivo in pena per lui Mi faceva veramente pena questo ragazzo Che magari probabilmente lui stava al gioco Però non lo so Però c'erano una serie di cose poi Che vi racconterò che secondo me Hanno un po' calcato la mano con questa storia L'uomo è stato messo su un'auto Tra l'altro nevicava tantissimo quel giorno Gli sono state messe una benda sugli occhi E anche delle cuffie Per non farli sentire o intuire Dove lo andassero a portare E poi lo hanno trasferito in questa stanza Piccolissima Come potete vedere E gli hanno detto Di togliersi tutti i vestiti Tutti anche le mutande Durante questo programma Natsu B era stato dato soltanto Come vi dicevo Il gas L'acqua E poi vabbè c'era il bagno Eccetera eccetera Però non c'era assolutamente nulla Dalle immagini che vedo Nemmeno la carta igienica E praticamente quello che gli hanno detto È che l'unico modo che Gli avrebbe permesso di mangiare Era se avesse vinto Nei concorsi a premi Quindi l'hanno lasciato in questa stanza Con tutte queste cartoline Da spedire Per poter vincere qualche premio Sapete Non era cosa insolita Sui giornali Che ci fossero delle specie di contest In cui le persone che volevano partecipare Che facevano obo Potevano vincere qualcosa E quindi praticamente questo uomo ha iniziato a scrivere Scrivere cartoline Per potersi procurare Almeno qualcosa da mangiare O qualcosa da vestire probabilmente L'obiettivo appunto di questo esperimento Se vogliamo chiamarlo così Era quello di sopravvivere interamente Da questi premi Di questi concorsi Appunto portati avanti e promossi Da questi magazine Una volta che questo Natsu B sarebbe riuscito A vincere una quota pari a Un milione di yen Ovvero 8000 euro diciamo Sarebbe stato dichiarato vincitore Avrebbe potuto lasciare la stanza E una volta lasciata Sarebbe diventato famoso Perché probabilmente questo programma Si ipotizzava che sarebbe stato visto Da milioni e milioni di telespettatori Ovviamente quando vi dico un milione di yen Intendo che doveva vincere O un milione di yen diciamo in cash Oppure un milione di yen In equivalente di premi Sono sicuro che molti di voi Si staranno chiedendo È Natsu B riuscito a vincere O a trovare successo E qua diciamo che è un pochino Opinionabile Perché ragazzi Non credo che la fama Che questo uomo è riuscito ad avere Fosse proprio quella che cercava Però Fatemi raccontare questa storia E forse capirete meglio Quello che voglio intendere Allora Iniziamo analizzando Il comportamento Che questo Natsu B ha assunto Non appena è entrato in questa stanza L'uomo sembrava assolutamente Non a suo agio Infatti il suo primo istinto È stato quello di cercare di coprirsi Ha preso questo cuscino Ha cercato di coprire Le sue parti intime E sembrava estremamente imbarazzato Da quella situazione Voi immaginatevi Cercate in tutti i modi Di diventare famoso Finalmente vi offrono l'occasione Per poterlo diventare E vi trovate In questa situazione In cui vi chiedono Di togliervi tutto Cioè Io non so A quanto Sareste disposti ad arrivare Per poter diventare famosi Però A me Sembra Un'assoluta sciocchezza In ogni caso Uno dei primi contest Che questo Natsu B ha cercato Di partecipare Era quello Per poter vincere Un grembiule Per potersi coprire Le parti intime Tuttavia Non è mai riuscito A vincere nulla E tra l'altro Io durante tutto Questo periodo Mi sono spesso chiesto Se questi contest Fossero un po' Truccati dalla produzione Perché si sa Il fatto che lui Fosse completamente nudo Tutto il tempo Probabilmente Aiutava A tirar su L'audience A fare il programma Più comico Se vogliamo E durante Tutti questi 15 mesi Di permanenza È rimasto Completamente Senza Vestiti Tutto il tempo Voi immaginatevi Che durante Il suo primo Mese È riuscito A inviare Ben 5748 Cartoline Io mi sono visto Per questo video L'intera Carrellata Di video Che si possono trovare Su youtube Mi sono proprio Non immedesimato In lui Però Immaginatevi La vostra priorità All'inizio È quella Di coprirvi E la vostra Seconda priorità È quella Di mangiare Cioè Questo nasubi Lo si può vedere Drasticamente Dimagrire Durante il percorso Di questa trasmissione Già partiva Molto magro Ma Quando ha concluso La trasmissione Era veramente In uno stato Diciamo Di estrema magrezza E in ogni caso I primi giorni Veramente Ha detto che sono stati Poi in seguito In qualche intervista I più frustranti Perché Assolutamente Non aveva cibo E stava Veramente Per Non farcela più In ogni caso È riuscito poi In seguito A vincere Il suo primo Premio Diciamo Il suo primo premio Che era questa Gelatina Di fibre Pari a un chilo e mezzo E l'ha subito Mangiata tutta Perché era Affamatissimo Non so quanti giorni Era stato lasciato Senza cibo Poi ragazzi Qua Io non sono sicuro Che sia andato avanti Tutti questi giorni Senza cibo Secondo me Dietro le camere Comunque Magari qualcosa Magari riusciva ad avere Da mangiare Magari quando era in bagno Non lo so Il suo secondo premio Che ha vinto Sono stati 5 kg Di riso Immaginatevi La sua felicità Quando ha scoperto Di aver vinto Finalmente qualcosa Di commestibile E che lo avrebbe potuto Soddisfare di più Magari rispetto A quella gelatina Sfortunatamente Si è ben presto Reso conto Che non aveva Nessun modo Per poterla cucinare Non aveva una macchina Per fare il riso In quella piccola stanza E quindi Per poterlo cucinare Ha utilizzato Diciamo Il contenitore Di quella gelatina Che aveva vinto Giorni precedenti E ha messo il riso Lì E l'ha posizionata Praticamente Subito sopra Il gas Per poterla cuocere E finalmente ha potuto fare Diciamo Un pasto decente Nei mesi successivi È riuscito a vincere 1000 yen Una cosa come 8 euro Del sapone E anche Degli spaghetti Diciamo In scatola So ragazzi Che quando vi dico Spaghetti in scatola Gli italiani Immagino già la reazione Una cosa in ogni caso Che mi ha molto sorpreso Del comportamento Di Nassubi È il fatto che Benché vincesse Questi premi Che diciamo Ce ne erano cose Veramente Per la maggior parte Inutili Nel senso Il sapone Se ti manca da mangiare Diciamo che non è proprio Un bene di prima necessità Nassubi sembrava Sempre contento Cioè era sempre felicissimo Faceva sempre queste danze Un po' Così Rideva Scherzava E sembrava veramente Genuinamente Grato Di aver vinto Questi premi E io posso immaginare Che magari Dover rimanere Dentro quella stanza Per tutto quel tempo Da soli Solo a scrivere cartoline Cioè io Impazzirei Già me la Invedo Se riuscirò A tornare in Italia Quando poi Avrò la possibilità Di tornare in Giappone A farmi sei giorni Di quarantena Negli app A hotel Non oso immaginare Dover rimanere In una stanza Così per mesi Ripreso dalle telecamere Tutto il tempo Cioè Non so se magari Poi In un secondo momento Magari Ci fai meno caso Alle telecamere Però io penso Che sarai in ansia Tutto il tempo Poi Immaginatevi Non avere neanche i vestiti In ogni caso Come vi dicevo Questo naso Mi sembrava sempre Contentissimo Forse era l'unica cosa Che lui sperava Insomma Più premi vinceva Più si avvicinava Al giorno In cui avrebbe potuto Lasciare questa stanza Ad ogni modo Il partecipare A questi contest Si era rivelato Estremamente Faticoso E gli ha richiesto Veramente Ore e ore Di lavoro Immaginatevi Che lui per riuscire A vincere Un monte premio Di mezzo milione Di yen Quindi 500.000 yen Ci sono voluti Ben 6 mesi 6 mesi interi E addirittura Ha inviato Più di 38.000 cartoline Voi immaginatevi Rimanere qui A scrivere cartoline Tutti i giorni Arrivare a scrivere Addirittura 38.000 Altre cose Che comunque Nassubi ha vinto Sono state Questa bicicletta Che benché All'inizio Sembrava felicissimo Di averla vinta A breve Si è reso conto Che non aveva Nessun utilizzo In quella stanza Perché era troppo piccola E infatti L'ha soltanto utilizzata Forse uno o due giorni Appena l'ha ricevuta E poi non si è più vista All'interno dei suoi live stream Altre cose Che era riuscita a vincere Erano anche Queste mutandine Che ha cercato Di indossarle Però erano troppo piccole E quindi alla fine Ha smesso Di mettersele E poi Anche questo peluche Di questa foca Che mi sembra L'abbia chiamato Nassubi Proprio come lui Inoltre Ha vinto questa televisione Sembrava felicissimo Tuttavia Questa casa Non aveva nessuna antenna Quindi Benché Ha vinto questa televisione Non poteva vedere nulla Forse Una dei premi Diciamo Più utili Sono stati Questo spazzolino E questo dentifricio Che gli hanno permesso Per la prima volta In mesi Di potersi lavare i denti Il programma In ogni caso All'esterno di questa stanza Stava diventando Sempre Sempre più Famoso E conosciuto E a un certo punto Un giornale Mi sembra Non ricordo Se era la Saki Shinbun Comunque Hanno scoperto La location Dove stavano filmando Questo programma Per questo motivo La produzione Ha subito preso Dei provvedimenti E nel cuore della notte Sono entrati Nella sua stanza L'hanno bendato E lo hanno trasferito In un'altra location Molto simile A quella Dove lui Già risiedeva Tutto questo Per poter garantire La segretezza Di questo programma E ragazzi Dovete sapere Che fino a quel momento Diciamo che Non è che si poteva Vedere Nassubi Al 100% In ogni secondo Ma si poteva solamente Vedere in una specie Di recap Un po' come fanno All'isola dei famosi Mi sembra Sapete che c'è Il recap del giorno Quello che è successo Durante il giorno Quindi facevano Una specie di riassunto Dei momenti Più interessanti Della giornata Tuttavia I produttori Hanno pensato bene Di seguire Nassubi Sempre Da quel momento in poi E quindi Con il fatto Che hanno cambiato Location Sono riusciti A installare Diciamo Una nuova tecnologia All'interno di questa stanza Che hanno permesso Di poter vedere In live stream Sempre Questo Nassubi Durante la sua permanenza Benché Diciamo Questi live stream Erano estremamente Rudimentali Dovete comunque Immaginarvi Che si tratta Assolutamente Delle prime occasioni Che Era mai stato utilizzato Una tecnologia del genere E inoltre Il fatto che Fosse nudo Tutto il tempo Ciò Ha costretto La produzione A dover Sempre Cercare Di coprire Le genitali Con queste Melanzane Enormi Cercando in internet Tra l'altro Ho visto questa notizia Riportata Su qualche giornale Italiano Forse su facebook Che dicevano Che gli hanno dato Questo nickname Di Nassubi Quindi di melanzana Proprio perché Lo coprivano Con questa melanzana E vorrei sfatare Un po' questa cosa Perché in realtà Sembra che questo nome Di Nassubi Lo avesse già da prima Perché infatti Lui già quando è entrato Nel contest Non so se già Si sarebbero aspettati Di fare tutta questo Ma dubito Lui già si chiamava Nassubi Probabilmente perché Essendo un comico Non lo so Se la forma Del suo volto Ricordava una melanzana In ogni caso Vabbè Questa è una piccola curiosità In ogni caso Durante questa nuova Permanenza In questa nuova Location Vi listo qua Alcuni degli altri Premi Che era riuscito a vincere Questa Suica Ovvero questo melone Un biglietto Per andare a vedere Il film Delle Spice Girls E poi Questa VHS Questa videocassetta Che effettivamente Poteva funzionare Con la tv Che aveva vinto Qualche mese precedente In seguito A queste vincite Tuttavia È passata anche Una settimana Durante la sua permanenza In cui Non ha mai sentito Nessuno suonare Alla porta Non era più riuscito A vincere nulla E devo dire Che questi Forse sono i live stream Un po' più Forti Forse A livello proprio Psicologico Perché vedete Questo Uomo che sembra Veramente soffrire Cioè Immaginatevi Dover rimanere All'interno di questa casa Così piccola In quelle condizioni Senza cibo Cioè deve essere veramente Una situazione terribile Che non auguro Assolutamente a nessuno La produzione Invece tuttavia Di aiutarlo Quando aveva visto Proprio che non aveva Più cibo Cioè era veramente In uno stato disperato Ha preferito invece Spostarlo In una nuova location E magari questa nuova location Lo avrebbe portato Più fortuna Chissà E in questa nuova location Era riuscito A vincere Una playstation Che ovviamente L'ha giocata Ininterrottamente Per quattro giorni Perché per la prima volta Aveva potuto fare qualcosa Di diverso Cambiare un po' La sua routine Quindi immaginatevi Tuttavia Dopo aver passato Questi tre giorni Giocando a questi giochi Si era reso conto Che giocare Alla playstation Li portava via Tempo Per Diciamo Scrivere tutte queste cartoline A poter partecipare A poter partecipare A questi concorsi E per questo motivo Passati questi tre giorni Ha smesso di giocarci In todo Ha anche vinto Una tenda Nella quale Ha dormito Per alcuni giorni Tuttavia Occupava probabilmente Troppo spazio Nella stanza E quindi è stata rimossa Anche perché Dovete sapere Che le sue danze Diciamo della vittoria Erano una specie Di rituale Che ormai Ha continuato A fare per mesi E quindi Se ci fosse stata Questa tenda Nel mezzo della stanza Probabilmente Sarebbe stato visto Come ingrato O magari Dalla produzione Che riteneva ciò In ogni caso La tenda è stata poi Rimossa Qualche giorno successivo E poi Non è più stata utilizzata Durante la sua permanenza Nel mese di dicembre Era riuscito A vincere Finalmente qualcosa Di costoso Questo set Di ruote E anche Questo buono Per poter spendere 10.000 yen Quindi una cosa Come un centinaio D'euro E inoltre Questo pacchetto Di riso Questi premi Assieme a tutti Quelli che aveva vinto Finora Li avevano finalmente Permesso di raggiungere Il milione di yen Quel tanto faticato Milione di yen Che finalmente Gli avrebbero permesso Di poter Abbandonare Quella stanza Minuscola E dopo finalmente 335 giorni All'interno Di questo inferno In cui Non aveva Un posto comodo Dove dormire Non aveva vestiti Non poteva mangiare Quando aveva fame E arrivato persino A mangiare Cibo per cani Poteva finalmente Lasciare quella stanza Cioè Immaginatevi La sua felicità Pensate che Questo uomo Ha potuto lasciare La stanza Scopriremo Che la produzione Aveva dei piani Ben diversi Per lui Voi Immaginatevi Che in quel momento Quel programma Aveva raggiunto Una cosa Come 17 Milioni di spettatori Un record Credo che non sia mai Stato realizzato In alcun altro programma In Giappone I produttori Stavano veramente Facendo milioni Su questo uomo E non avevano Alcuna intenzione Di lasciarlo Andare Ragazzi Questo Nasubi È stato nuovamente Svegliato Nel cuore della notte E gli hanno detto Congratulazioni Hai vinto E Nasubi Era convinto Finalmente Di potersene andare Gli hanno anche dato Dei vestiti Che finalmente Ha indossato Anche se Se li ha tolti Nel giro di poco Perché visto che Non aveva indossato Vestiti Per tutto questo tempo Gli sembrava che Lo pizzicassero tutto E quindi Si è spogliato nuovamente E in ogni caso La produzione Lo ha portato Fino in Corea del Sud Nasubi Era contento Appunto Di aver vinto Era convinto Che quello Era un pochino Il suo viaggio Di vittoria E tuttavia A un certo punto L'uomo è stato Nuovamente Bendato E ricondotto In una nuova stanza Questa nuova stanza Ricordava molto Quella dove Nasubi Stava precedentemente Però Con un'aggiunta C'era un dizionario Giapponese Coreano Gli hanno detto Che per poter Vincere Definitivamente E concludere Il programma Sarebbe dovuto Riuscire a vincere I soldi Per poter Tornare In Giappone Doveva comprarsi Appunto Un biglietto Economy Per poter Tornare nel suo paese E finalmente Essere libero Da questo programma Nasubi Non si è dato Per vinto Per vinto Anzi Si è impegnato Ancora di più E nel giro Di solamente Due mesi Era già riuscito A vincere I soldi Che gli avrebbero Permesso Di tornare In Giappone La produzione Non era entusiasta Di queste vittorie Dal momento Che non aveva Ancora Voglia Di concludere Così questo programma Dal momento Che in soli due mesi Per la produzione Tutto ciò Era impensabile Nasubi Aveva vinto Troppo velocemente E quindi C'era bisogno Che il programma Andasse avanti Ancora E per questo motivo Gli hanno detto Che avrebbe dovuto Vincere ancora di più Per poter fare Un upgrade Del suo ticket A business class Nasubi È riuscito Ancora una volta A vincere Questi ulteriori 9000 yen Per poter fare L'upgrade Del suo biglietto Ma ancora una volta Per la produzione Si era mosso Troppo velocemente E quindi Gli hanno chiesto Di fare ancora Un nuovo upgrade A first class Per poter finalmente Tornare in Giappone E vivere la sua vita Normale Nasubi Invece di incazzarsi Era assolutamente A suo agio Ormai era in quella Condizione da mesi E quindi potete capire Come ha continuato Ancora una volta A mandare lettere Ed è riuscito Di nuovo A vincere E riuscire A fare questo upgrade A first class E dopo aver vinto Questo polpo vivo Era riuscito Finalmente A raggiungere La quota necessaria Nasubi È stato nuovamente Bendato E condotto In una nuova stanza Ovviamente Non si era reso conto Che in realtà Questa stanza Era all'interno Di uno studio Televisivo E le quattro mura Erano appunto Questi quattro lati Di questa scatola Come potete vedere Da queste immagini E tutto questo Era nel mezzo Di uno studio Davanti a un pubblico Appena era stato lasciato Da solo In quella stanza Nasubi Ha iniziato A togliersi Tutti i suoi vestiti Non so qua Se magari La produzione Gli ha detto Di fare così O se magari Era proprio Una sua scelta Perché ormai Era abituato A rimanere Senza vestiti Per tutto questo tempo In ogni caso All'esterno C'era appunto I presentatori Che stavano facendo Questo countdown Per finalmente Liberare questo Nasubi Da quella condizione In cui aveva vissuto Per mesi Voi immaginatevi La situazione Questo Nasubi Aveva inviato Più di 75.000 Cartoline Era rimasto Da solo Tutto questo tempo Una cosa come 15 mesi E tutto da un tratto Si era ritrovato Davanti a questo Centinaio di persone Che gridavano il suo nome E dicevano Che aveva vinto E qua lo si può vedere Proprio con questa faccia Che sembra assolutamente In shock Non capiva dove si trovava Immaginatevi Trovarvi in una stanza Vedete tutte e quattro Le vostre mura Che cadono E vi ritrovate così In mezzo A questo studio Davanti a tutte queste persone Completamente senza vestiti Dopo aver vissuto Da soli E non aver visto Nessuno Per tutto questo tempo Cioè deve essere Veramente una cosa Scioccante Diciamo che ci sono state Tante cose Che comunque hanno fatto Un po' Discutere Se vogliamo Durante questo programma Ma una cosa Che particolarmente Mi ha dato fastidio E' il fatto Che sembrava Che si prendessero Sempre gioco di lui Come se lo stessero Bullizzando Cioè c'erano dei momenti In cui si vedeva Questo uomo Che stava veramente Soffrendo Che aveva fame E la tv Editava questi video Come se fossero Divertenti Ci metteva magari Degli sghignazzi sopra Degli effetti sonori Cioè come se Questo diciamo Sua frustrazione E difficoltà Fosse una cosa divertente Su cui scherzarci sopra Capisco che Quello era un po' Il fine del programma Però Io magari Da utente Magari esterno L'ho visto un pochino Come una forma Un po' Non molto rispettosa E sono veramente contento Che la televisione Appunto in Giappone Sia cambiata In tutti questi anni Cioè Per dire una cosa Vi ricordate Anche quell'assassino Che si era mangiato Quella francese Quel cannibale Giapponese Che poi era tornato In Giappone Anche lui era stato messo In molti programmi televisivi Quindi capite un po' Come era poco etica La televisione in Giappone In quegli anni In ogni caso Tornando a Nasubi Io non so veramente Cosa pensare Cioè voi Come vi sentireste? Cioè Riuscireste a mettere Una cifra A il vostro pudore Riuscireste a Sottoporvi A una situazione Così stressante E soprattutto Quando Vi ritroverete Nuovamente Nel mondo esterno Sareste pronti Ad affrontarlo O vi ritrovereste In una situazione Un po' Difficile Da Sostenere Cioè Io ragazzi Penso che Sia stato veramente Difficile per lui Iniziare a fare Questo percorso Ma penso che Sia stato altrettanto Difficile Uscirne Ragazzi Questa è l'opinione Che mi sono fatto E tra l'altro Pure lo stesso Nasubi Ha ammesso Queste cose In varie interviste In ogni caso Questo programma È continuato Andando avanti Fino al 2002 E hanno fatto Ben altri tre Esperimenti Prima di dover Terminare questo show Perché Come potete immaginare Ha sollevato Una serie di controversie E c'erano Tantissime persone Che Non ritenevano Che questo programma Fosse in qualche modo Educativo E che fosse Assolutamente Immorale Tra l'altro Uno di questi Esperimenti Che hanno condotto A seguito di quello Di Nasubi Vedeva due concorrenti In Africa Che dovevano Praticamente Costruirsi una barca Per poter tornare In Giappone Ragazzi Non sto scherzando E un altro Tipo invece Dovevano Fare una cosa Come Essere sempre In questa stanza Al buio E potevano Mangiare Solamente Quando Il loro team Preferito Di baseball Vinceva E quindi In quel momento Accendevano le luci E davano da mangiare Purtroppo O per fortuna Non sono riuscito A trovare Clip Di questo programma Però Potete trovare Molte informazioni Online E qualche immagine Veramente Scioccante Anche questo La domanda Che magari Molti di voi Si faranno È Cosa ne è stato Di Nasubi È riuscito A raggiungere La fama E quello status Di celebrity Che gli era stata Promessa Nel momento In cui lui È entrato In questo programma Non c'è Veramente una risposta Diciamo Univoca A questa domanda Perché Se è vero Che Tutti conoscevano Il suo nome Persino ora Molti conoscono Il suo nome E Anche per esempio Il diario Che lui ha tenuto Durante tutta la sua permanenza All'interno di questo show È diventato Un best seller Cioè lui Durante questo show Prendeva delle note Quando è riuscito a vincere Appunto questo Non so se l'ha vinto O se gliel'hanno dato In dotazione In ogni caso A un certo punto Ha iniziato a scrivere Questo registro In cui scriveva Tutto quello Che gli passava Nella mente E Lo ha poi pubblicato Ed è anche vero Che ha trovato Diciamo Un po' Di fortuna Se vogliamo Per quanto riguarda La sua vita Da attore E anche da comico Però Non possiamo negare La tortura Che ha subito E la quantità Di stress Psicologica Appunto Che ha dovuto subire Durante la sua permanenza All'interno 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 di questo show Per dire una cosa Anche McConary Sembra stupida Anche il fatto Di indossare vestiti Dopo 15 mesi Ha detto che per lui Era una cosa Assolutamente innaturale Dopo aver passato Tutto questo tempo Completamente senza E inoltre Hanno anche detto Che in seguito A questo programma Anche le sue capacità Diciamo come comico Si erano forse In qualche modo Esaurito Dal momento che Non era più A suo agio A stare a contatto Con le altre persone E la sua personalità Prima brillante Socievole Estroversa Si era trasformata In qualcosa di diverso Non era più infatti Il comico Di una volta Ma una persona Piuttosto timida E in parte Anche A sociale Quello che posso dire Che molto probabilmente Questo caso Ha aperto Una domanda Un quesito Che magari molti di voi Si sono posti Durante questo video E che benché Questo programma È stato estremamente visto Il suo live stream Ha veramente raggiunto Dei livelli impensabili Per l'epoca La domanda è Cosa sareste disposti A fare Per intrattenere Cosa sareste disposti A lasciare Per poter diventare famosi Io è questo Quello che mi sono chiesto Ragazzi Cercando su internet In vari post Ho visto che Si parlano Di come Natsubi Si sia sentito Completamente tradito Che ha fatto queste cose A sua insaputa Vi assicuro Che queste notizie Erano completamente false Nel senso Lui ha comunque Accettato Determinate condizioni E secondo Alcuni report Anche cercando Diciamo In siti giapponesi Sembra che in realtà Era a conoscenza Del fatto che Sarebbe stato portato In Corea Visto che lo show Era così Famoso Eccetera Eccetera Quindi diciamo Che non era Completamente All'oscuro Di tutto E sembra che In qualche modo Avesse Accettato Qua diciamo Che le fonti Sono un pochino Contraddittorie C'è chi dice Che era completamente All'oscuro Di tutto E chi dice Invece Che in realtà Era a conoscenza Di quello Che stava succedendo Io ragazzi Non lo so Una cosa Che però è certa È che dopo Questo programma Sicuramente Nassubi Non era più Lo stesso E soprattutto Non è riuscito Secondo me A raggiungere Lo status Di comico Che gli era Stato promesso Io Come persona Cioè ritrovarmi In una situazione Del genere Non riuscirei Assolutamente A vivere In queste condizioni Manco una settimana Figuriamoci Di 15 mesi Quindi ragazzi Non lo so Questo è tutto Quello che Avevo da dire Su questo caso Sono veramente Curioso Di sapere La vostra opinione Io vi ringrazio Veramente tantissimo Di aver scelto Di vedere questo video E spero Di vedervi Al prossimo Un saluto Da Seba Ciao